Uno è il secondo memorial di Alma Minari alla memoria, torneo notturno fra i rioni di Castelluccio, Sarginesco, Gabbiana e Ospitaletto. Ecco il papà in una foto dell'83. Ecco i rattruppamenti, presenti, vediamo il Presidente Toranzato, di spalle l'assessore dello sport europeo. Ecco il Montepremi, aperto dall'amministrazione comunale, società Tueste Castelluccio e la famiglia Minari. Disfruttando la finale del terzo quattroporto tra Borgolandine e Sarginesco, sta vincendo Borgolandine 5-3, poi vedremo la fine, come andrà a finire, è il secondo tempo. Pallo, sta attaccando le Landine. Borgolandine 5-2, penso che il grande principio è il secondo me che riesco a avviare un progetto sviluppo, suppositori, theirinnen, dalla minore e distanziaria parliamo. Abbiamo il bar, la sede del Castellucchio, è in fase di ristrutturazione, tra un mesetto l'Egipio sarà pronto. Il Campo del Castellucchio lo stanno innaffiando in vista della prossima stagione. L'organizzatore del Torneo. Davide Lini, organizzatore del Torneo insieme ad un suo collaboratore, anche lui molto bravo sempre per allestire il Torneo, complimenti a tutti. Tennis qua, in mezzo al calcio. Vedete il grande campione di Castelluccio, signor Lina, che gioca con l'altro grande campione del Castelluccio, signor Nasi. Grande calciatore che ha 25 anni che gioca nel Castelluccio e anche in altre altre squadre. E anche di più, avete sentito? ha detto, sedate un po' il tennis perché sa, un po' l'età, però è sempre in gamba, è sempre forte. Bandiera del Castelluccio. Il presidente del Castelluccio con un nuovo dirigente, appena entrato in società, auguri, speriamo che faccia bene. Sicuramente. è il fratello del calciatore Ferretti, grande centravanti del Castelluccio, il grande presidente, tuttofare, che dedica anima e corpo veramente alla società. a tutti. Ecco la prima finale. Guarda le entrate in campo. Puoi procedere? Ecco le entrate in campo. Via. Via. Ecco le squadre. Ecco le squadre pronte al via, è la prima finale del torneo Minari. Angelo Marini è vicino alla taglia del papà, è l'erede ufficiale, lui ha detto che è l'erede ufficiale. Adesso quando avrà fatto gli anni che ha fatto il papà, allora ci ritroveremo. però insomma ha iniziato bene. È un po' malcontento perché dice che lo fanno lavorare troppo, però adesso è in pensione. Ecco Angelo Marini è stella del Castelluccio di una volta. Adesso un po' indressato, un po' di pancia dove in modo... E' arrivare dei poveri. E' arrivare dei poveri. E' arrivare dei poveri. E' arrivare a gorgon saga della tua vita una Tagli注